salve a tutti e benvenuti in questo video tutorial allora oggi andremo a vedere una tematica molto importante mi è capitato spesso di parlare con delle persone che si lamentano che praticamente sono invasi da telefonate moleste per quanto riguarda il call center hanno paura dei propri dati che sono messi in rete e insomma sono un po' preoccupati per quanto riguarda la propria sicurezza e la propria privacy allora oggi vi faccio vedere un sito molto interessante ok sicuro al 100% ok è stato premiato da Trustpilot con il massimo dei voti ed è molto difficile che si abbia ricevuto questo punteggio questo non fa nient'altro che analizzare tramite la propria email adesso vi spiego perché tutti i servizi che noi siamo iscritti i nostri dati che sono messi sul web e possiamo rievocare l'accesso ok naturalmente c'è una premessa da dire allora questo servizio funziona esclusivamente con il servizio google servizio microsoft e servizio yahoo ok allora in questo caso noi andremo a vedere il servizio google che è il più diffuso clicchiamo clicchiamo allora naturalmente scegliamo le mail da da inserire ok in questo caso noi facciamo questa cosa sta succedendo sta succedendo che ci dice che ci serve l'autorizzazione cioè google vuole l'autorizzazione per consentire l'accesso a questa a questo sito web sul nostro profilo in questo caso gmail consenti ecco che siamo entrati adesso qua fate next next ok fate così questo ovviamente è un piccolo test che non serve a niente next andiamo let's go partiamo allora cosa succede adesso perché si vede questa questa pagina allora dobbiamo mettere il nostro nome e il nostro cognome ok get started naturalmente il sito analizzerà tutte i dati che praticamente sta raccogliendo ci vuole un po' di non ci vuole tanto ci vuole è abbastanza veloce poi dipende naturalmente dalla post dalla propria casella di post elettronica ok ha finito qui dice 46 io lo metto lo traduco in italiano così è di facile comprensione per tutti allora vedi 47 le aziende che detengono i tuoi dati sono state trovate nella tua impronta scopri quale aziende poi sotto c'è scritto i progressi della proprietà dei tuoi dati ok vedi ragioni 100% di ogni servizio questo ve lo vedete voi facciamo ultimi 60 giorni ok scopri quali sono le aziende allora qua ci vedi ci stanno tutti i vari siti che praticamente noi siamo abbiamo dato gli accessi ok allora cosa vuoi se vogliamo revocare qualcosa noi dobbiamo fare nient'altro che fare reclamare cosa ci dice qua ci dice che praticamente il rischio di esposizione dei dati in base ai dati condivisi ha il potenziale di violazione qua ci da un 2 qua visualizzazione email recenti ok detto questo andiamo su reclamare ok per i diventiti attuali le aziende possono chiedere di fornire maggiori dettagli aggiungere esclusione responsabile informazioni scopri di più vediamo come funziona la tua richiesta verrà espletata aspetta torniamo qua facciamo ok facciamo vediamo la nostra email fai consenti sei un eroe l'invio del tuo reclamo vorrebbe richiedere alcuni giorni poiché lo stiamo elaborando può annullare in qualsiasi momento fatto ora naturalmente poi andiamo sempre sta caricando questo succede perché io ho usato il traduttore ok facciamo così qua ci sono tutti i vari argomenti vedi tipo computer tecnologia social e website andiamo qua tipo vogliamo togli uscita discord facciamo così sempre la solita procedura ok ok e così facciamo con tutti gli altri insomma eh i nostri profili naturalmente se voi avete più di un email lo fate con tutte le mail che avete in questione naturalmente ci vuole un po' di tempo per chiedere la la cancellazione dei dati ma funziona al 100% ve lo assicuro va bene spero di essere stato utile questo tutorial è tutto scrivete al mio canale commenta il video e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao ciao